Buongiorno, oggi è domenica 25 febbraio, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Sarà una giornata all'insegna del cielo nuvoloso, alcune precipitazioni, ci prepariamo al grande freddo atteso nei primi giorni della prossima settimana. Una notizia delle ultime ore, incendio questa notte in via Macello a Bolzano all'interno di un cantiere, l'incendio si è sviluppato in quello che ospiterà il vano ascensori, ovviamente nessuno è rimasto ferito in un'ora, i vigili del fuoco hanno riportato la situazione alla normalità. In regia abbiamo Matteo Berto, allora con il suo aiuto andiamo a vedere quello che accade questa mattina intorno alle 6.30 a San Candido, vedete nuvole basse all'orizzonte, temperature già negative. Andiamo a vedere la grafica, innanzitutto grazie all'esperti meteo della provincia di Bolzano abbiamo detto abbassamento dei valori minimi e dei valori massimi, ad esempio a Vipiteno meno 7 gradi, a Brunico meno 6 gradi, ma anche i valori massimi subiscono una flessione, nel capoluogo Alto Tesino, nelle ore centrali non dovremo superare i 7 gradi. Ancora più freddo se guardiamo un po' più a sud in provincia di Trento, ad esempio proprio nel capoluogo una minima di meno 3 ed una massima di soli 2 gradi sopra lo 0. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, la stampa locale, il Corriere dell'Alto Adige, elezioni, duello sulle banche, Giorgianni rappresentante dei presunti truffati di banche Etruria dice, Etruria e Carispa, troppa politica, barba o capelli, gli artisti bolzanini del taglio, mestieri tradizionali, lo stile antico torna di moda, ci racconta tutto Alan Conti. Il quotidiano Alto Adige, Kleinberg morto, c'è l'inchiesta, sequestrata la parete della saleva, l'ipotesi è quella di omicidio colposo, la politica in primo piano anche sul quotidiano Alto Adige, Boschi assediata ma lei non c'è, Bizzo dice, io sono stato tradito dal Partito Democratico. La cronaca dell'inserto della domenica dedica spazio a uno dei designer francesi più famosi al mondo, ha inaugurato un nuovo caffè, ha restaurato un nuovo caffè, prende spunto per parlare di turismo, del turismo che sta rovinando Venezia. L'Adige, Val Sugana, fiume di droga, arrestati 10 trentini, un giro d'affari milionario. Identica apertura per il trentino che dedica spazio anche alle ricerche del ragazzo di 16 anni scomparso da una settimana, Marco Boni, una segnalazione arriva da Concei. La cronaca cura del settimanale tedesco, in lingua tedesca Zetta, la domenica in edicola al posto del Dolomiten, l'incendio che ha devastato una stalla e un finile di un maso in Val d'Ultimo, il proprietario del maso, di 84 anni, ha riportato gravi ustioni per mettere in salvo il suo bestiame, una delle quattro mucche non è riuscita a scampare alle fiamme. Il Corriere della Sera, attenzione, in piazza Milano si parla di elezioni, cariche al corteo di Casa Pound e ieri Gian Antonio Stella, nota firma del Corriere della Sera, era presente nel capoluogo per parlare della strana campagna elettorale, le sfide mancate di Boschi, Durwalder al bar con Biancofiore, troppi due paracadutati nel Partito Democratico. Andiamo a vedere la cronaca della Germania, l'appuntamento della domenica con la Bildam Sonntag, si parla di sicurezza nei principali centri nelle città più importanti della Germania, cosa dicono i residenti e i primi cittadini. Il sole 24 ore, mercati in allerta voto, più fiducia sulle banche, l'aumento dei tassi spinge a rialzo i titoli di credito. È tutto, in chiusura come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere, ultimo giorno a Roma della fiera dedicata al mondo della birra. Il 27 di febbraio la partita di occhi su ghiaccio tra Bolzano e Graz, il 2 di marzo Crazy Bob forni di sopra, il 4 di marzo Bolzano che ospita Snoimo sempre per l'occhi su ghiaccio, sempre al Palahonda, dal 9 all'11 di marzo, appuntamento a Campo Tures con il Festival del Formaggio. Grazie per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.